Oggi il mercato richiede una produzione precisa, di qualità e puntuale. Nel momento in cui ci sono delle macchine utensili produttrici di pezzi, l'esigenza è proprio quella di prevenire il momento in cui questi strumenti utensili che andranno a produrre i pezzi sono difettosi, sono usurati o causano dei fermi macchina. Oggi noi riusciremo con questo progetto concretamente realizzare una macchina equilibratrice autoadattativa che avrà incorporato un controllo dell'usura dell'utensile in modo tale da prevenire, quindi non arrivare a un fermo macchina oppure a pezzi difettosi solo ex post, ma sarà possibile predire, prevenire questo tipo di problematiche. L'elevata innovatività di questo progetto è legata al fatto che si creerà un partenariato pubblico privato altamente evoluto che permetterà di coinvolgere stakeholders territoriali della filiera dell'istruzione e formazione della ricerca e soprattutto le start up innovative del nostro territorio per connetterle alla creazione di nuovi business e allo sviluppo di nuove tecnologie radicando nel territorio la creazione di nuova conoscenza in materia di innovazione digitale dei processi produttivi in particolare sul manifatturiero meccanico. Un altro punto molto rilevante e importante di questo progetto è l'internazionalità, quindi la connessione con i cluster manifatturieri internazionali. In questo progetto già dalla candidatura sono state create delle connessioni con dei cluster polacchi, lituani, spagnoli, tedeschi, proprio per già dall'inizio creare una connessione forte internazionale per dare respiro e soprattutto per sviluppare una strategia di lungo termine che potesse essere non solo locale ma chiaramente con un respiro internazionale.